Dottor Turani, visita di idoneità è obbligatoria sia per i professionisti che per i dilettanti, però sembra più una formalità che un'indagine per andare a scoprire qualche cosa? Di fatto non è una formalità, innanzitutto perché è un obbligo di legge e in secondo luogo perché è un elemento fondamentale e obbligatorio per riuscire a capire se il soggetto che vuole intraprendere un'attività sportiva presenti le caratteristiche di idoneità per quello sport, tant'è che la visita di idoneità sportiva agonistica viene rilasciata su indicazione della società ma prettamente per uno sport specifico, non è un'autorizzazione generica, quindi viene fatta per il calcio, viene fatta o per l'atletica, viene fatta per il nuoto. Stabilisce con degli esami che sono innanzitutto un esame elettocardiografico, sia a riposo che sotto sforzo, sia con un esame spirometrico, cioè il soggetto, l'atleta, soffia in un tubicino per misurare la capacità ventilatoria e quindi idoneità proprio a un tipo di ispirazione corretta per quel tipo di sport. Dopodiché viene fatta ovviamente anche una visita medica, quindi una valutazione generale e alla fine di questi tre principali elementi il medico dello sport che esercita in centri autorizzati rilascia questo certificato di idoneità sportiva agonistica che per esempio per il calcio parte dall'età di 12 anni, però ogni sport a seconda della propria federazione delle caratteristiche e delle indicazioni specifiche. Questo certificato nel caso del calcio ha una durata di 12 mesi da quando viene emesso, quindi per questi 12 mesi il soggetto non è che nella visita si dichiara che è indenne da, ma si dichiara semplicemente che in quel momento non presenta particolari controindicazioni allo sviluppo e all'esercizio di questo sport. Al termine di questa data il soggetto non è più coperto, purtroppo parecchie società non eseguono completamente e su tutti i propri iscritti questa visita di unità e questo oltre che grave dal punto di vista professionale e morale, lo è anche dal punto di vista giuridico perché ci sono questi soggetti che sono esposti, scoperti sia dal punto di vista assicurativo e anche ovviamente per l'integrità personale. Ci sono però stati casi, vedi Pier Mario Morosini, lei parlava del calcio, vedi Bumulenta per quel che riguarda la pallavolo, di atleti sottoposti spessissimo a controlli in quanto professionisti a un certo livello, però poi questo non li ha salvaguardati. Teni anche presente che purtroppo il corpo umano fortunatamente è una struttura molto complessa, ci sono delle situazioni limite dove il cuore si ferma, si arresta anche in un atleta, anche in un atleta sottoposto a controlli estremamente rigorosi. I casi di Morosini e Bumulenta come l'ha indicato sono dei casi limite, sono dei casi dove direi che se dovessimo muovere delle critiche, specialmente nel caso di Morosini, lo possiamo fare sul dopo quello che è successo, cioè sulle modalità di intervento per i soccorsi. Sul prima, ripeto, ci sono delle anomalie cardiache che sono estremamente difficili da rilevare e che purtroppo in una routine clinica di indagine come quella di una visita di donità a volte sfuggono, non dovrebbe succedere però sfuggono perché sono talmente piccole, sono talmente minime. Poi purtroppo anche il caso di Bumulenta aveva fatto tutti gli esami immaginabili possibili, erano tanti anni che praticava sport, a un certo punto è successo questo evento. Però ripeto, mi permetto di dire che sono dei casi veramente limite, che succedono anche nella vita di tutti i giorni, solo che in questo caso dello sport c'è una rilevanza e una risonanza maggiore. Tenga presente se posso aggiungere una cosa, che l'ultimo caso prima di Morosini della morte di un giocatore di calcio, in questo caso professionista, sul campo, risale a un certo Renato Curi di 37 anni fa. Quindi voglio dire, dobbiamo cercare a bocce ferme di dare una valutazione obiettiva, ecco. È ovvio che queste cose non dovrebbero succedere e tutti ne siamo dispiaciute.